Facolta Fonfi, ma che vorrebbe dire raccolta fondi? Dietro questo slogan ci sarà un'iniziativa che dovrebbe in qualche modo influenzare tutti coloro che la leggeranno affinché gentilizzino, non come Ubaldo, una quota perché il teatro riapre i battenti. Io personalmente do la mia possibilità di partecipare gratuitamente a uno spettacolo per la riapertura.